25 su sterrato, ciò che ho fatto, non ti dico, poi dopo un 14 km di media al 10, come segarsi le gambe, guarda qua, spettacolo fa la capretta, due ciao capretti è un po' velato però merita che capi allora vedete, qui siamo a Montorfano, cima proprio del Monte Orfano che prende il nome del paese perché come potete vedere questa montagna a sera e lì avete una brianza velenosa stai registrando? stai registrando, sì ciao sì perché di qua vai giù hai cose sì 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 giù di lì sì sì giù di lì no io questa non l'ho mai fatta che figata oh ho bollettato cazzo ma che figata guardi fai un sacco di corvette puttana che bella bella ebbene siamo in due ok 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 curva secca albero ok 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 Buongiorno 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 Ciao 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.